Roma, Pasqua tra le mura, Pasquetta fuori porta, gambe e ruote rimaste ieri in rivessa escono oggi verso la risurrezione del bel tempo. La luce d'oro sull'api antica dà l'illusione del tefore, quest'anno un po' restio, ma il tefore possiamo fabbricarcelo con potenti ingestioni di calorie commestibili e potabili. Anche il prato delle capannelle, prima che piattaforma di trepidazioni sportive, diventa oggi centrale di fervori gastronomici. Cucina e cantina romanesca allineano i più gloriosi capolavori del loro repertorio, la portetta, l'abbacchio e biondo cannellino a piovere. Cifre alla mano, cento milioni di uova, un milione di litri.